Ben ritrovati ai vostri soldi, una puntata interamente dedicata al mercato immobiliare Roma e Milano, ma a immobili di lusso. Cerchiamo di fare una panoramica sia per quanto riguarda le compravendite, sia per quanto riguarda le locazioni, un bilancio dello scorso anno, ma soprattutto uno scenario per il 2019. Siamo in compagnia del, benvenuto e ringrazio per essere con noi, Claudio Casali, che è direttore Sant'Andrea di Milano. Ben ritrovato, grazie. Buongiorno. Allora, lei è Head of Operation Sant'Andrea Luxury Houses, sarebbe la divisione case di lusso di Gabetti, questo per essere più precisi. Allora, voi avete diffuso qualche settimana fa un rapporto, uno studio proprio sul mercato immobiliare focalizzato su Milano e su Roma, un mercato immobiliare delle case di lusso. Allora, io partirei subito, abbiamo anche una grafica per capire quella che è la situazione, cioè cerchiamo di fare innanzitutto un bilancio del mercato dello scorso anno 2018 e poi capire quali sono le prospettive per quest'anno. Certo. Allora, per quanto riguarda il comparto immobiliare, delle compravendite immobiliare nella città di Milano, è la città che ha mostrato più dinamicità nell'ultimo semestre. Sostanzialmente ha confermato un trend che è già positivo da un paio d'anni, sia sul versante dei prezzi, leggermente positivi rispetto all'ultima rilevazione, sia sul versante del numero delle transazioni. Sicuramente è più positivo e quindi conferma un dato di crescita. Quindi Milano è in questo momento la città dove si concentrano maggiori possibilità di investimento. Allora, dovremmo avere anche una grafica di come sono andate le compravendite nel 2018, dove quindi su Milano c'è un mercato che è in aumento, a Roma è stabile. I prezzi, qual è la situazione sui prezzi? Allora, per quanto riguarda i prezzi, mentre su Roma c'è, come diceva, una certa stabilità dovuta anche al fatto di una certa quantità di potenzialità forse inespresse, Milano invece ha un'attenzione maggiore, un appeal maggiore anche e soprattutto da quello che è l'estero e di conseguenza il trend è maggiormente positivo, anche se di poco, raccoglie maggiori adesioni anche da parte dell'investitore che crede più in uno sviluppo e in una crescita dei prezzi milanese rispetto a quello romano. Riteniamo allo stesso tempo che Roma abbia, appunto per le potenzialità inespresse, la capacità di potersi riprendere anche a breve, nel momento in cui dovessero mettersi in campo quelle azioni di riqualificazione di un patrimonio che dal punto di vista architettonico decisamente non ha uguali sull'intero territorio italiano se non addirittura al mondo. I tempi poi medi di vendita sono diversi tra le due città? I tempi medi di vendita sono leggermente diversi, un po' più contenuti nella città di Milano che si in qualche modo riesce a trasformare in liquidità operazioni immobiliari nell'arco dei 6-7 mesi mentre Roma ha bisogno di almeno un paio di mesi in più per poter arrivare ai tempi medi di vendita. Tutto questo si può dire anche poi sulle locazioni, cioè vedo appunto sempre dalla nostra grafica come anche qui il mercato sia stabile in aumento su Milano, è stabile invece qua in diminuzione su Roma con tempi medi di locazione. No, qui sui tempi medi di locazione siamo qui, sono praticamente allo stesso modo Roma e Milano, però anche sui prezzi ci sono delle differenze. Sì, diciamo che Milano avendo oggi un'offerta importante ma in linea con la domanda riesce ad avere un assorbimento medio in tempi relativamente lunghi, quindi nell'arco dei 2-3 mesi ciò che viene messo in locazione viene poi assorbito. È necessario chiaramente mettere in locazione oggetti che abbiano qualità e personalità per cui incontrino poi la domanda. Roma, essendo una città decisamente più ampia, ha una domanda in questo momento leggermente inferiore all'offerta e di conseguenza ritraccia un po' sui valori e i tempi medi sono leggerissimamente superiori, con scontisti che forse sul territorio romano sono superiori rispetto a quelle milanesi. I quartieri su Milano e sul Roma? Milano continua ad essere gettonato l'area di Brera, sebbene il territorio di Movida comunque presenta un ottimo rapporto qualità-prezzo, sicuramente ancora continua a esserci una grande attenzione nell'area di Magenta e le Cinque Vie, la vecchia Milano degli Sforza, sostanzialmente quelle dei signori e delle aree che ormai confermano il loro trend positivo che è l'area di indipendenza. Quartieri con una forte personalità e connotati da un elevato grado di residenzialità. Su Roma abbiamo assistito ad un incremento dei valori dell'attenzione nel quartiere Pinciano-Veneto, si confermano quelle che sono i trend di Parioli e di Centro Storico, forse le parti meno interessanti in questo momento per così dire sono la parte di Trastevere e Salaria. Allora questo un po' per quanto riguarda i quartieri, poi c'è il quartiere abbiamo detto quindi Centro Storico-Brera, la parte centrale resta sia su Milano che su Roma, chiaramente quella più considerata per quanto riguarda immobili di lusso, quali sono le caratteristiche che deve avere un immobile per definirsi di lusso? Allora si è passato da un involucro che fosse destinato a contenere quelli che erano i bisogni e le esigenze di una famiglia ad una ricerca di un piacere dell'abitare. L'immobile di lusso deve avere una dimensione chiaramente in grado di garantire una certa funzionalità, diverse attività soprattutto di una famiglia più o meno grande, deve avere linee architettoniche di un certo livello, quindi deve essere raffinato se vogliamo più che di lusso, deve essere esclusivo, sostanzialmente deve essere destinato ad un target numericamente inferiore a quello che è la normalità. Le dimensioni preferibili o quantomeno preferite nell'immobile di lusso sono a cavallo dei 200-250 metri quadrati, sono sicuramente il contesto, è il primo step che deve incontrare il desiderata della clientela, quindi un quartiere residenziale sicuro, un involucro palazzo che abbia delle linee architettoniche e oggi il lusso farima anche con design, cioè la casa firmata o comunque architettonicamente con elevata personalità sono preferite dalla maggior parte di chi cerca un immobile di pregio. Quindi luminosità è una delle, leggevo appunto le caratteristiche fondamentali di un immobile di lusso, la luminosità, la zona di cui abbiamo parlato, i piani alti, quindi con soffitti alti, questa è un'altra caratteristica. Solitamente sì, soprattutto nella casa più d'epoca, quindi non nella casa nuova è più facile trovare questo tipo di caratteristiche, la luminosità la fa un po' da padrona nell'ambito della ricerca, del piacere dell'abitare e del comfort. Fino a ieri le grandi vetrate erano sinonimo di freddo d'inverno e caldo d'estate, oggi il comfort climatico della nuova tecnologia ci permette di poter garantire il massimo comfort anche con le grandi vetrate. Qui stiamo vedendo una grafica dove ci sono gli elementi più importanti, troviamo il terrazzo ovviamente, il garage opposto auto, questo soprattutto sia a Roma che a Milano immagino che sia un elemento fondamentale. Assolutamente, anche a Milano sebbene sia meno luminosa come città e meno soleggiata di Roma, il terrazzo è un punto di forza sicuramente. No, diciamo poi il garage opposto auto che chiaramente è il piano dell'abitazione, queste sono le caratteristiche della zona, a questo punto parlavamo dei quartieri e quindi quelli che sono poi i servizi che offre il quartiere, immagino. Il quartiere deve essere a misura d'uomo, deve permettere di poter raggiungere qualsiasi tipo di servizio, deve essere completo nei servizi, deve permettere sostanzialmente anche laddove possibile il non utilizzo dell'automobile, deve essere sicuro, quindi presidiato, chi cerca a qualità, raffinatezza vuole essere e vuole vivere in un ambiente sicuro e tranquillo. Queste sono le caratteristiche, se parliamo oggi dell'immobile che si cerca, che si compra o che va in locazione, ma qual è la casa del futuro? Soprattutto su Milano voi avete fatto uno studio su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche della città del domani, no? Certo, allora è sempre difficile poter scommettere ed essere certi di quello che potrà essere fra qualche anno l'esigenza di un pubblico che vive oggi un'evoluzione anche in ambito tecnologico estremamente rapido e veloce. Sicuramente si è passato da una casa condomotica ad una casa smart, una casa che riesca ad essere polifunzionale per raccogliere più esigenze di più generazioni, quindi genitori e figli, una casa flessibile quindi che sia in grado di seguire un po' quelle che possono essere le esigenze di una famiglia, una casa che sia in grado di contenere una famiglia e di far vivere durante la giornata nei diversi ambienti esigenze diverse, che sia ospitale e soprattutto che premi un po' quella che è la ricerca oggi di un must che è il discorso green, ovvero la possibilità di avere eventualmente degli spazi, degli aggetti esterni che possono essere terrazzi, giardini o grandi balconi che opportunamente piantumati diano comunque una sensazione di verde perché è molto apprezzato oggi anche nella città di Milano. Questo è sicuramente il trend e lo vediamo declinato in diverse modalità, soprattutto nei nuovi sviluppi immobiliari. La ringrazio per essere stato con noi, Claudio Casali, direttore Sant'Andrea Milano, grazie e alla prossima. Grazie a voi. Grazie ai tre spettatori per l'attenzione, finisce qui i vostri soldi, vi lascio con la programmazione di ClassesimBC.